Allora, qui vi fanno passare o no per parlare con Monti? Ma che? Ma ci mancherebbe. Se se lo trovasse davanti, cosa vorrebbe dirgli innanzitutto? Vorrei chiedergli di venire in fabbrica, di farsi qualche mese con la cassa integrazione a 700 euro al mese. Vorrei chiedergli di sperimentare sulla sua pelle che cosa vuol dire essere lavoratori e essere disoccupati adesso in Italia. Fateci passare! Fateci passare! Fateci passare! Questa borsa, che è una delle ricchezze del nostro sistema, il numero delle società quotate in Italia è ancora oggi molto inferiore a quello di altre realtà compatibili in Europa. I pensionati, gli esondati, i giovani, i disoccupati, la gente che soffre, la gente che non ce la fa vivere, non è più disponibile ad aspettare le loro discussioni, le loro trattative, i loro convegni. Siamo un popolo di sfruttati e continuano a sfruttarci e Monti vengono a dire che il popolo italiano è felice, il popolo italiano è accettato, non è vero niente. Chiederei a Monti di spiegarmi come riesce a far sì che calando i salari, calando l'occupazione, calando lo stato sociale, calando i diritti, poi c'è la ripresa. Mi spieghi la formula magica con cui riesci a spiegare che dopo si esce dalla crisi.